Sono nata il 21 novembre 1986 a Pesaro, una città nel nord delle Marche. Fin da piccola avevo un'enorme passione, il calcio. Ho iniziato la mia carriera nella S.D. Arzilla Calcio, giocando insieme ai bambini. Nel 1998 inizia il mio percorso nelle squadre femminili. Ho giocato nella Vigor Senigallia, Torino, Bardolino Verona, Sassari Torres, Brescia, Ravenna e Milan. Ma l'esperienza più importante è stata in Germania, giocando tre stagioni per il Bayern Monaco. Un altro capitolo importante è stata la nazionale. Ho indossato per ben 15 anni la maglia azzurra, disputando europei e mondiali. Ora ho creato la Rafa Manili Academy, che si impegna giornalmente nello sviluppo e crescita di un settore giovanile fatto di rose miste, con bambini e bambine che vanno dai 5 ai 15 anni.